Dove sono tutti? Eccolo lì, un combattimento Proviamo ad andare di qua, magari lo colgo di sorpresa Dai, torna su Sì, colpito! Colpito Che tiri da campione Ultima freccia Per la Contea Non ci credo, l'ho ucciso io Sì, l'ho ucciso io Da qui Assurdo, questo è stato un bel tiro Avete visto che era così lontano Che addirittura ha sparito perché era troppo distante dopo che ha scoccato la freccia Non ci credo Grazie delle frecce Basta, da ora in poi sono Legolas Legolas Pool No, non è vero Grazie a tutti No, non è vero No, non è vero Grazie a tutti.